Buongiorno, sono Luca Nervi, sono un dirigente di Regione Liguria e sono qui al forum anche in rappresentanza della Conferenza delle Regioni. Scusate la location un po' particolare, sono qualche giorno in montagna ma mi faceva piacere lo stesso registrare questo messaggio. Allora, io sono responsabile dell'anticorruzione e trasparenza del mio ente, mi occupo da molti decenni anche di performance, di programmazione, di valutazione delle risorse umane, di organizzazione del lavoro e da quando mi sono avvicinato alle tematiche del governo aperto ho imparato molto e sono molto contento che la community e il forum possano dare un contributo fondamentale. Mai come adesso, in questo momento storico, c'è bisogno che cittadini e istituzioni siano vicine. anche per dare concretezza a quel principio del conoscere per deliberare che è uno dei principi cardini del nostro ordinamento democratico. Cosa mi aspetto dal forum? Mi aspetto un confronto serrato, stimolante, proficuo tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della società civile, organizzazioni della società civile che hanno un ruolo fondamentale, sono portatrici delle istanze, dei fabbisogni, delle critiche della collettività e dei cittadini e quindi noi che siamo dall'altra parte e dobbiamo attuare le politiche pubbliche, è fondamentale che prima di attuarle e per meglio attuarle ascoltiamo la collettività. Il mio piccolo contributo che cercherò di dare sarà quello di diffondere la cultura del governo aperto anche a livello territoriale nella mia regione ma nel più complesso nella conferenza delle regioni e cominciare anche a approcciare alcuni strumenti tipicamente burocratici, ad esempio gli strumenti di programmazione come sono il Piau. Sapete che recentissimamente è stato adottato il nuovo piano integrato di attività e organizzazione, quale strumento complessivo di programmazione degli enti pubblici. Ecco sarebbe bello se nell'ambito di questo tipo di programmazione ci fosse anche uno spazio per diffondere le politiche del governo aperto. Non mi resta che salutarvi, vi auguro e ci auguriamo buon lavoro, a presto.